E' in arrivo Laboratori dal Basso, la nuova iniziativa di arti e bollenti spiriti per i giovani pugliesi che vogliono portare in alto le loro idee, imparando a fare impresa secondo i principi di sostenibilità sociale, economica e ambientale. Laboratori dal Basso prevede tre diverse azioni. Mentoring è l'iniziativa che fa incontrare giovani imprese e associazioni pugliesi con imprenditori esperti che si offrono di aiutarle nella fase di start-up. Se hai un'esperienza imprenditoriale di almeno 5 anni in un settore ad alta densità di conoscenza, puoi iscriverti come mentore sulla piattaforma Laboratori dal Basso. Potrai mettere le tue competenze a disposizione di uno o più progetti di giovani che operano nel tuo stesso settore, anche attraverso forme di affiancamento a distanza. Se invece fai parte di un'associazione o di un'impresa giovanile attiva in Puglia da non più di 5 anni, attraverso la piattaforma puoi richiedere il sostegno di un mentore. L'Arti si occuperà di far incontrare la domanda e l'offerta di conoscenza. Così le competenze dei più esperti faranno crescere le idee dei più giovani e tutto il territorio. Grazie.